Io ho passato gli ultimi 5-6 anni della mia vita a studiare dei linguaggi di programmazione che non mi sono mai serviti a nulla. Se hai aperto questo video, sarai rimasto sicuramente incuriosito dal nostro titolo Non studiare questi linguaggi di programmazione. La maggior parte dei corsi di studio all'università, ma anche alle superiori, vi mette nella condizione di odiare i linguaggi di programmazione a basso livello perché senza di quelli una persona non può comprendere l'informatica. Questo video è rivolto sia a chi sta già studiando informatica, ma soprattutto a coloro che non l'hanno mai approcciata ma sono interessati a capire qual è il modo migliore per affrontarla. I linguaggi proposti per iniziare a programmare sono solitamente due, il C e il C++. Ma il linguaggio C è nato nel 1969, ragazzi, cioè più di 50 anni fa. Sebbene tutti i linguaggi più moderni derivino proprio dal C, sono convinto che far sbattere la testa ad una persona con dei concetti così complicati a primo impatto non faccia altro che demoralizzarlo e demotivarlo per il futuro. Sento già i luni da tastiera che stanno per scrivere. Eh madoni, ma questi concetti sono fondamentali per l'informatica. Lasciatemi un attimo spiegare. In questo video, ragazzi, voglio andare un po' controcorrente e spiegarvi perché iniziare con il C e il C++ non è stata una buona idea e anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, si rivela un'arma a doppio taglio che vi farà smettere di programmare per il resto dei vostri giorni. Mettiamoci nei panni di un ragazzino che ha appena iniziato le superiori oppure di qualcuno che si è appena iscritto all'università. Questa persona, carichissima, inizia ad andare a lezione e già nei primi mesi di corsi si trova a dover sbattere la testa su degli argomenti complicatissimi come i puntatori e la gestione manuale della memoria dei vostri computer. Ma poi vogliamo parlare della ricorsione? Lo sapete in ambito lavorativo quante volte viene usata la ricorsione? Mai! Neanche una volta. Perché? Perché vi fa esplodere la memoria. Ma nonostante questo viene sempre utilizzata come arma quasi attua a torturare tutte quelle povere persone che vogliono iniziare la programmazione oppure all'università o a scuola per fare delle verifiche divertentissime dove la ricorsione è il protagonista. Sicuramente se avrete provato ad approcciarvi all'informatica questi argomenti vi saranno risultati particolarmente ostici ed è proprio a causa di questa complessità che i principianti si demoralizzano praticamente subito ancora prima di aver capito che cosa significa realmente programmare. La sintassi del C e il C++ è molto molto complicata e a differenza di linguaggi un pochettino più moderni come ad esempio il Python oppure il JavaScript ha una curva di apprendimento davvero ripidissima. In generale il C e il C++ sono nati e state concepiti come dei linguaggi di programmazione di basso livello. Per chi non sapesse di cosa sto parlando cerco di spiegarvi le cose al meglio. Un linguaggio di basso livello è un linguaggio con la quale il programmatore interagisce direttamente con la memoria oppure le parti un po' sotterranee del vostro computer. Dovrete letteralmente specificare vita, morte e miracoli per far sì che le vostre informazioni vengano percepite correttamente dal vostro computer. E se fate un errore sono guai perché in quel caso la vostra applicazione salterà in mille pezzi in men che non si dica. I linguaggi di programmazione invece di alto livello cercano di farvi dialogare con la vostra macchina con un linguaggio un po' più simile al parlato umano. Linguaggi come il Python oppure il JavaScript sono nati esattamente per questo motivo. Per cercare di astrare un po' i concetti che i linguaggi del passato avevano e per semplificare la vita dello sviluppo del programmatore per quelle che sono le applicazioni un pochino più complicate. Ma allora, se iniziare a studiare il C e il C++ come primi linguaggi potrebbe essere ad oggi una scelta non vincente. Qual è l'approccio migliore che un neofita dovrebbe tenere nell'apprendere la programmazione? Sono dell'idea che una persona che approccia per la prima volta l'informatica non debba pensare a problemi di gestione della memoria oppure di come si risolve questa espressione complicatissima di puntatori che io dovevo risolvere all'università. Certo, è vero, avere la comprensione dei concetti a basso basso livello vi consente di comprendere meglio come vanno le cose in futuro. Ma in quanti ambienti di lavoro al giorno d'oggi viene effettivamente utilizzato il C e il C++? Ma soprattutto, quanti studenti una volta viste le complicazioni legate a questi linguaggi di programmazione vorranno mai cercarsi un lavoro che utilizza questi affari? Come diceva il mio prof di informatica all'università certe cose si imparano non perché vanno imparate ma perché così le puoi evitare come la peste. Facciamo un attimo un passo indietro che cosa fa un programmatore in generale? Un programmatore si trova davanti a dover risolvere dei problemi solitamente problemi molto complicati che devono essere scomposti in più sottoproblemi semplici. Quindi un programmatore deve utilizzare la logica e un linguaggio di programmazione per riuscire a risolvere dei problemi. Ed è per questo, ragazzi, che un programmatore solitamente dovrebbe avere delle buone capacità logiche e delle ottime skill di problem solving che se guardate nelle offerte di lavoro sono sempre quelle che vengono fuori più spesso. Quindi possiamo dire che la programmazione dovrebbe essere un modo che semplifica la vita delle persone nella risoluzione e nell'automatizzazione di problemi. E non che ve lo complica come nel caso del C e del C++ ma ora vi starete chiedendo com'è possibile che questi linguaggi vi mettano i bastoni tra le ruote invece di aiutarvi? La risposta a questa domanda, ragazzi, è molto semplice. Per fare qualsiasi cosa letteralmente qualsiasi cosa serve ad avere un sacco di software un sacco di librerie e una marea di setup iniziale. Anche solamente creare un'interfaccia grafica in C puro è una sfida veramente ardua. Non che è ardua perché è troppo difficile per un neofita ma perché vi richiede troppo tempo se comparato ad altri linguaggi più moderni. Se c'è però una cosa che bisogna dire a favore del C e del C++ è che si tratta dei linguaggi di programmazione più veloci e con le migliori prestazioni con la quale sicuramente vi potreste imbattere in futuro. Secondo me un programmatore dovrebbe scegliere personalmente la propria strada e il proprio ambito dove vorrà specializzarsi. Questo perché, ragazzi, potremo dividere il mondo dell'informatica in due enormi insiemi concentrici. Uno, coloro che vogliono divertirsi e smanettare con l'hardware con il basso livello e a scrivere i programmi che verranno utilizzati sul rover e che verrà mandato sulla luna tra qualche mese. Ecco, per loro il C e C++ è fondamentale perché dovranno andare a sbattere la propria testa su dei concetti che non affidereste mai ad un linguaggio di alto livello. Se viceversa la vostra passione è legata allo sviluppo di progetti con una grafica accattivante, all'interazione utente o volete ad esempio carare una pagina web, beh, i linguaggi di alto livello sono sicuramente perfetti per voi. E attenzione però perché la scelta del linguaggio di alto livello vi mette spesso nella condizione di trovarvi davanti situazioni come questa in JavaScript dove non avete la minima idea del perché il vostro linguaggio sta agendo in un modo oppure in un altro. Se ripenso agli anni dell'università il mio percorso è stato il seguente. C come primo approccio e ho sudato freddo lì ragazzi ve lo assicuro. Java e C Sharp per il linguaggio di alto livello e poi sono passato a JavaScript, Scala, Go, Kotlin, Haskell, Prolog e infine il caro Python. Quindi è sensato prendere uno studente e fargli imparare il C e il C++ o comunque un linguaggio di basso livello appena entrato a scuola oppure all'università. Secondo me no ragazzi secondo me questi linguaggi non sono i più adatti nel 2023 per approcciarsi per la prima volta all'informatica in generale. Se io avessi la possibilità di ricominciare di imparare l'informatica da zero a 12 sceglierei il JavaScript e il Python. Il Python perché è un linguaggio di programmazione davvero semplicissimo. È talmente semplice che lo utilizzano anche i data scientist improvvisati laureati in economia che vogliono fare dei calcoli utilizzando la programmazione anche se non hanno la minima idea di come funzioni il codice in generale. Vi prego laureati in economia e data scientist non odiatemi perché era una battuta vi voglio bene giuro baci baci ciao. Quindi vi assicuro che per il Python non vi serve una laurea per impararlo e sarete subito hands on su dei progetti che vi daranno della gratificazione e non vi faranno passare la voglia di imparare l'informatica in due giorni. D'altro canto il JavaScript è molto interessante perché vi consente di approcciarvi anche alla programmazione web. Una delle potenziali del JavaScript però ragazzi è che vi consente di creare fin da subito il vostro primo progetto. L'unica cosa che vi servirà sarà infatti un browser internet e tanta pazienza e questo vi consentirà di creare e studiare progetti non solo sul lato frontend quindi il lato che si interfaccia al mondo esterno come ad esempio la grafica ma anche il lato backend quindi è il linguaggio più completo per iniziare perché vi farà toccare tutti quanti gli aspetti anche della programmazione che si fa sul web. È giusto dire però ragazzi che il JavaScript oggi regge solamente perché è lo standard dei browser. Oggi ragazzi il JavaScript puro non è mai utilizzato da solo per lo sviluppo. ci si appoggia quasi sempre a dei framework che sono degli strumenti che facilitano lo sviluppo del codice degli programmatori. Uno dei framework più utilizzati ad esempio con il JavaScript è Node.js quindi se volete imparare qualcosa che vi servirà anche per il futuro questa è sicuramente una strada da percorrere. Se siete appassionati di web e di framework e volete imparare qualcosa che sicuramente vi aiuterà per il futuro allora vi consiglio di dare un'occhiata anche a React. Ma dove imparare questi linguaggi ragazzi? Beh con il Python potete sicuramente stare tranquilli. Su internet troverete una marea di materiale disponibile gratuitamente per imparare questo linguaggio. Vi consiglio Free Cold Camp oppure Code Academy come punto di partenza. Ma parlando di ambito lavorativo invece quali sono i linguaggi di programmazione più richiesti al giorno d'oggi e quelli che effettivamente non vi servono? Qui c'è un'altra argomentazione a favore del fatto che imparare il C e il C++ non vi serve troppo anche a livello lavorativo. Nessuno vi chiederà la conoscenza del C e del C++ nel 2023 per ottenere lavoro di sviluppatore oppure se ve lo chiedono saranno in proporzione molto 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 inferiore rispetto alle aziende che vi richiedono il Java il C Sharp il Python o comunque dei linguaggi di più alto livello. Per quanto mi riguarda il mio linguaggio preferito proprio anche a livello lavorativo è il Java. So che ci sono tantissime persone adesso che inizieranno a dire eh ma no ma il Java è verboso devi scrivere 650.000 cose per esprimere un piccolo concetto. Lo so ragazzi però sono un fan delle cose chiare il JavaScript non è un linguaggio molto chiaro come abbiamo visto ha dei comportamenti abbastanza ballerini in certi casi invece il Java proprio a causa della sua verbosità e della sua lunghezza con la quale dovete specificare tutto quanto non lascia quasi mai spazio ad errori o comportamenti indesiderati in generale sono sempre stato un fan dei linguaggi fortemente tipizzati ovvero quelli dove il compilatore ti blocca quando scrivi una cavolata prima addirittura di farti eseguire il programma in JavaScript questo non l'avete e questo significa che se scrivete degli errori nel vostro programma JavaScript ve ne accorgerete solamente dopo invece con il Java moltissimi errori vengono risolti prima che l'applicazione venga eseguita e quindi beh per una persona come me che vuole le cose precise e belle controllate è sicuramente una mana dal cielo ultimamente sta spopolando davvero tantissimo il Kotlin che potremmo definirlo come un Java leggermente meno verboso soprattutto nella programmazione Android ma quindi il C e C++ in generale sono completamente da bocciare ovviamente no ragazzi dobbiamo fare un attimo un passo indietro anche in questo caso cercare di analizzare la cosa in maniera un pochino più dall'alto il C e il C++ come vi dicevo sono nati per essere dei linguaggi di basso livello quindi se siete delle persone che amano smanettare con progettini tipo Arduino oppure che si divertono ad accendere dei LED o in generale vogliono avere e toccare davvero con mano come funziona a basso livello il vostro computer allora sicuramente sono i linguaggi che fanno per voi e qui ritorniamo al discorso di partenza uno studente in generale deve poter scegliere il linguaggio con la quale approcciarsi in base ai propri obiettivi se vuoi fare un'applicazione Android non vai a studiare il C e C++ andrei a studiare il Java oppure il Kotlin i due linguaggi ufficiali e gli unici supportati per lo sviluppo di applicazioni Android se viceversa vorrei sviluppare delle applicazioni desktop un pochino più elaborate con della grafica e tutto beh magari il Java e il C Sharp sono la scelta adatta a te se vuoi mandare invece il rover sulla Luna o su Marte ecco forse C e C++ sono più sensati la risposta univoca non esiste come sempre ragazzi ma è importante essere consci dei pro e dei contro che qualsiasi scelta di linguaggio vi porterà ad avere ma imprimere nella mente dello studente che il C e il C++ sono i linguaggi che descrivono lo stato dell'informatica al giorno d'oggi secondo me è fortemente limitante ma soprattutto ti causa quel mal di pancia quando le applicazioni non funzionano e c'hai 600 puntatori nello stesso esercizio che ti fanno davvero perdere la voglia della bellezza in generale della programmazione cerco di darvi qualche tip utili che a me personalmente sono serviti tantissimo durante gli anni per imparare a programmare ragazzi scegliete un linguaggio che vi consenta di imparare le basi ma contemporaneamente di avere un feedback rapido su quello che fate sui vostri progetti ebbene sì ragazzi perché per imparare solamente le basi di un linguaggio vi serviranno all'incirca una novantina di ore però se lo fate con costanza due o tre ore al giorno per qualche mese fidatevi che otterrete dei risultati in fretta e la cosa fondamentale ragazzi è non demoralizzarsi quando le cose non vanno i programmi che non compilano e che non funzionano sono letteralmente la base della vita di ogni giornata da sviluppatore non preoccupatevi se il vostro programma non compila o non funziona ma sfruttate le risorse che avete in rete oggi come chat GPT per farvi correggere il codice e aiutarvi nella risoluzione dei bug e questi strumenti vi aiuteranno davvero tantissimo soprattutto in quei casi in cui l'unica luce poteva essere fare una domanda oppure andare al ricevimento dopo qualche settimana dall'insegnante ricordatevi sempre che avere una mentalità project oriented è la migliore secondo me per imparare un nuovo linguaggio o in generale approcciarsi per la prima volta all'informatica fate tanti progetti che trovate utili interessanti non per l'insegnante ma per voi costruitevi che ne so un simulatore di Dungeons & Dragons per le statistiche dei vostri personaggi un generatore automatico delle vostre ricette preferite create un progetto completo front end back end inseriteci un database imparate a gestire le cose e non fermatevi alle basi il vostro progetto che vi diverte che vi interessa potrà essere evoluto nel tempo e in futuro magari da quel progetto potrà nascere qualcosa di più grande e magari pubblicherete la vostra prima applicazione sullo store o fonderete una startup e diventerete i prossimi Steve Jobs insomma non vi accontentate dell'esercizio dato a lezione studiate e imparate per il vostro piacere personale vedere qualcosa che avete immaginato che funziona che avete fatto voi con una bella interfaccina grafica con dei pulsanti e tutto il resto è al 100% più utile che fare tre mesi in cui sbattete la testa contro la gestione della memoria e i puntatori che non sto dicendo che sono completamente inutili per una carriera da sviluppatore ma semplicemente sto dicendo che non dovrebbero essere secondo me gli argomenti sulla quale uno studente sbatte la testa all'inizio quando deve approcciarsi per la prima volta all'ambiente della programmazione l'informatica non è fatta di puntatori di gestione della memoria o meglio sì ma non solo l'informatica è uno strumento per dare sfogo alla vostra creatività e non permettete mai a nessuno di scegliere ciò che per voi è giusto a parte quando volete una laurea in quel caso gli esami ci sono e vanno fatti mi raccomando lascia un bel like e iscriviti a questo canale perché ho in mente di portarvi un bel corso dove impariamo l'informatica insieme facciamo dei progetti noi della nostra community su questo canale il corso sarà completamente gratuito ma il tuo che richiede davvero centinaia di ore di lavoro per essere realizzato partirà a 5.000 like sotto a questo video a voi non cambia niente ma per me è davvero importante vi lascio con due domande qual è il vostro linguaggio di programmazione preferito ma soprattutto siete d'accordo che un percorso fisso a scuola e all'università sia il modo più corretto di insegnare l'informatica nel 2023 o siete d'accordo con me lasciatemi un commento perché non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate e sono convinto che un sacco di persone saranno indignate da tutto questo mio discorso vi aspetto